Oggi apriamo con un argomento di cui parliamo tutti i giorni nel corso dei nostri appuntamenti con i giornali in tv. Si parla di sanità, perché intanto abbiamo letto sui quotidiani regionali che sono arrivati i medici cubani, ricordate la decisione del commissario alla sanità calabrese, nonché il presidente della regione Calabria Occhiuto, che per sopperire alla mancanza di medici ha deciso di fare arrivare qui in Calabria, medici cubani che sono atterrati all'aeroporto di La Mezzaterma e sono a Cosenza. Parliamo anche di sanità generale, italiana, di tutta la sanità italiana, non solo calabrese, perché oggi la stampa, andiamo a vedere appunto, a iniziare il nostro appuntamento con le prime pagine quotidiane, la stampa apre con l'agonia della sanità italiana, scrive in prima pagina, e poi l'inchiesta della stampa, due anni per un esame, 8 mila medici in fuga e 5 milioni di cittadini che non si curano più, questo dice la stampa, intanto la Cina travolta dal Covid, si rischia un milione di morti, tampone a malpensa per chi arriva da Pechino. Questa era la prima pagina della stampa con cui abbiamo iniziato il nostro appuntamento con i giornali TV. C'è anche un'altra questione che ormai da molti mesi tiene banco, il conflitto russio-ucraino, ora Mosca, minacce e ritorsioni, il titolo del Corriere della Sera, poi la telefonata, Zelitsky chiede a Meloni l'invio dei sistemi di difesa antiaerea. Lavrov dice l'Ucraina accetti le nostre proposte, ci penserà l'esercito, basta petrolio ai paesi con il tetto del gas, questo era sulla prima pagina del Corriere della Sera. Poi c'è il caso che riguarda la russa, il Presidente del Senato, onore a Movimento Sociale Italiano, la russa è un caso, quindi dopo Isabella Rauti anche il Presidente del Senato celebra l'anniversario del partito fondato nel 1946 dai redici mussoliniani della Repubblica Sociale. Il PD chiede le dimissioni della seconda carica dello Stato, da disegno a Dureghello la condanna della comunità ebraica. Nostalgismo inaccettabile, su Repubblica anche la ritorsione di Putin, basta petrolio ai paesi con il pre-scap titolare pubblica. Ora andiamo al libero, cosa c'è nella legge per fermare gli sbarchi, il giro di vite del governo. Le ONG dovranno essere autorizzate a denunciare gli scafisti, per chi non rispetta le regole, previste multe e confisca della nave. Intanto sull'inchiesta a Qatargate, Panseri resta in carcere in Belgio. Poi ancora, elettori in fuga, iscritti spariti, così letta ha demolito il PD, il 2022 orribile dei compagni. La russa osa ricordare il movimento sociale italiano, e la sinistra perde la testa. I dem dicono, deve dimettersi, poi sul libro leggiamo, ma perché c'è anche questo interrogativo. Il giornale, bentornati mamma e papà, addio genitore 1 e genitore 2, su il giornale. Poi andiamo sempre al fatto quotidiano, evasori tedeschi wanted, evasori italiani condonati, quindi come per i terroristi chi evade è equiparato ad assassini ed evasori. Quindi qui la Francia, qui la fa fanca per legge, appunto. Quindi in Italia, insomma, ci sono i condoni per legge, secondo quanto scrive il Fatto Quotidiano. Mentre un punto viene riportato nell'occhiello della prima pagina di questo titolo, in prima pagina del Fatto Quotidiano, 14 sanatorie nella manovra. In Germania, fotosegnaletiche negli aeroporti. Invece qui in Italia, secondo il Fatto Quotidiano, si viene condonati. Allora, la verità pure per il genero di panseri, vacanze da sogno in Marocco. Panseri arrestato, appunto, per lo scandalo Qatargate. Il tempo, fine anno con fiducia. Quindi, ostruzionismo in aula, così l'esecutivo chiede il voto blindato sui testi. Punto della manovra. E poi il tempo titola sprint del governo sulla manovra, appunto. Dopo il tempo andiamo alla prima del messaggero. Pubblica amministrazione, via i burocrati del no. Pensioni, c'è il piano, 41 anni di contributi, senza limiti di età. Domani, la prima di domani, il governo vuole riabilitare gli agenti imputati per il pestaggio in carcere. La mattanza di Santa Maria a Capovetere. Poi ancora su domani, Google, Netflix e gli altri, vale un miliardo, la pace fiscale. Questo era su domani. Poi andiamo al sole 24 ore. In prese, il fisco cambia in 15 mosse. Il riformista arriva il decreto anti-ONG. Quanti morti farà? Si chiede il riformista. Poi il mattino, pensioni. Niente limiti di età. Via in pensione, appunto. Si va ora con 41 anni di contributo. Questo vuole fare il governo. Non c'è bisogno di avere il limite d'età dei 67 anni. Basta avere 41 anni di contributi. Il resto del Carlino. Stretta baby gang. Raffica di divieti. Poi ancora su il manifesto. Scacco al regime. Scrive il manifesto. Nessuna pietà. Il presidente Reniano Raisi sceglie una cerimonia militare per sferzare la rivolta popolare. Il bilancio della repressione sale. 507 uccisi. 18.533 arrestati. Ma le donne continuano a lottare. La scacchista Kladim senza velo al torneo di Kazakistan. Questo era appunto su il manifesto. Dopo il manifesto andiamo a Il Dubbio. Nordio, il ministro della giustizia. Beccaria si cambia. Ma priorità alla prevenzione. Beccaria è il carcere per minori di Milano. Il carcere è Beccaria. Dove appunto nei giorni scorsi sono evasi sette persone. Di cui tre mi pare o quattro sono già stati ripresi. Poi l'identità Giorgia. Volodimir scrive l'identità. Kiev punta sull'India e sull'Italia. Meloni invita Zelischi a Roma e promette armi. Poi dopo l'identità abbiamo anche l'avvenire. Clima più pazzo scrive l'avvenire. La notizia con la scusa dei rev party. Il governo fa l'ennesimo regalo ai colletti bianchi. Questo era sulla notizia. Andiamo anche ad altri quotidiani. In questo caso ai quotidiani sportivi. Le prime pagine dei quotidiani sportivi. Gazzetta dello Sport, Futuro Juve, Allegri fa il mercato, Max ci mette il muso, vuole McAllister, pressa Rabiot, studia le uscite. Questo era su Gazzetta dello Sport. Dopo Gazzetta dello Sport andiamo anche ad altri quotidiani sportivi. Oggi in edicola ricordiamo come sempre che il nostro appuntamento lo apriamo ogni giorno con le prime pagine dei quotidiani nazionali. Dopo Gazzetta dello Sport andiamo alla prima pagina del Corriere dello Sport. Anche qui titola sull'allenatore della Juventus, Allegri, che fa il mercato, fa tutto Max. Addio di Agnelli con una sorpresa, l'intervento di Moggi. Nella nuova Juve pieni poteri ad Allegri, almeno fino a giugno. Poi tutto sport. Poi magari torna, c'è la foto di Andrea Agnelli. Ha tenuto l'ultima assemblea dei soci da presidente, ma Andrea Agnelli resta vicino alla Juve come proprietario. Così, più che un addio, il suo può essere un arrivederci, scrive tutto sport. E poi, questo era sulla prima pagina appunto, e poi abbiamo anche un'altra prima pagina, il quotidiano sportivo, il capodanno più difficile, con la foto appunto di Andrea Agnelli. E poi una fotina, una foto più piccola, dietro quella di Andrea Agnelli, di Moggi, che ha partecipato ed è intervenuto all'assemblea dei soci in quanto azionista della Juve. Queste le prime pagine dei quotidiani nazionali oggi in edicola. Il quotidiano del sud è l'altra voce dell'Italia, in edizione cartacea. Capitali internazionali, direzione sud, oltre manovra e PNRR, la sfida cruciale del governo Meloni, di cui nessuno parla. Poi, se c'è la crisi non si vede, spese record per le feste, cenoni, viaggi, regali, già spesi 20 miliardi. Più povertà, meno istruzione, diritti negati ai giovani del sud, open police su condizioni familiari e povertà educativa. Poi l'analisi politica, congresso PD da tripla del totocalcio, Conte e PD pronti a tutti pur di perdere. Stati Uniti e Russia trattano, ma la pace è lontana. Poi, ancora, ex ilva, una tragedia industriale che si consuma nell'indifferenza. Questa era la prima pagina del quotidiano del sud, l'altra voce dell'Italia. E dicevamo appunto dell'arrivo dei medici cubani, qui vediamo la foto nel pullman che li porta a Cosenza, sulla prima pagina del quotidiano del sud, è arrivato il primo contingente di medici cubani. Anche sul quotidiano del sud, edizione Calabria, alla Camera arriva il decreto rave, il governo mette la fiducia, bagare il Senato sulla manovra con la protesta delle opposizioni, i tempi si dilatano. La povertà educativa in Calabria, scuola, quando la buona volontà non basta, i livelli di apprendimento di chi nasce in una famiglia svantaggiata si rivelano spesso più bassi. E quanto emerge dai dati Open Police, il caso di Crotone, il 60% degli studenti va male agli invalsi. Regione, la svolta dell'idrico, occhiuto incontra i sindaci, poi in Drangheta a Roma, in 63 al vaglio del Guf per l'inchiesta a Tritone, l'ultimo saluto a Cristina Vercillo, il ricordo commosso di colleghi e amici, Cristillo, caporedattore centrale del quotidiano del sud, che purtroppo si è spenta all'età di 59 anni per un male, incurabile. Poi Crotone, turismo, fine anno tra luci e ombre, le voci degli operatori. Vibo Valencia, fondo povertà, si cercano 4 esperti, sperpero di denaro, Reggio Calabria, codice degli appalti, i nodi della riforma, secondo Lance, poi Catanzaro, medicina a Cosenza, si chiama in causa i governatori. Poi interditive per 4 imprese nella capitale e poi Cube Stage, i bronzi, si fondono col Natale. Poi all'interno ovviamente tante notizie, quella che abbiamo letto, il caso sulla russa, Boldrini dice la russa si dimetta, la deputata del PD chiede le dimissioni del Presidente del Senato a seguito delle dichiarazioni sul Movimento Sociale Italiano. Franco, si fiero di quanto fatto, i funerali dell'ex Presidente del Consiglio di Stato Frattini con la frase appunto su Franco Frattini nel corso dei funerali. Dall'opposizione a Chigi, l'anno magico di Meloni, il percorso della rida di Fratelli Italia fino alla Presidenza del Consiglio. Conte candida bianchi alla Regione Lazio, il leader pentastellato, Donatella Bianca, incarna tutti i nostri valori. Poi ancora, anche qui campionessa di scacchi senza velo al Mondiale in Iran, nuova sfida al regime dei Mullah. Tajani convoca l'ambasciatore. In Italia casi in caduta, ma aumenta l'influenza e casi al Covid. Quello che preoccupa è il dato in salita costante dalla Cina. Ancora, preso un altro ragazzo, evaso dal carcere per minori, Beccaria. Poi un'anziana è stata trovata morta in casa nel Padovano. Andiamo alla povertà educativa in Calabria, quando lo status familiare incide sui voti a scuola, reddito e apprendimento bassi, Crotone in cima. Princi, che è appunto la vicepresidente della Regione, istruzione, nostro pilastro, ma gli studenti chiedono di più. La polemica sulle borse di studio, servono interventi che siano strutturali. Occhiuto chiama i sindaci sul servizio idrico, le tappe della riforma del settore, incontro in cittadella sul ruolo di soli, calcone gestore unico. Poi in Regione Calabria sono state proposte due nuove riserve naturali, si tratta delle aree del Vergini e di Sant'Andrea Apostolo. Poi il Movimento 5 Stelle, Emisiti lascia l'incarico di coordinatore regionale, aveva scelto di non ricandidarsi a settembre. Poi dalla Camera arriva questo proposto, un ordine del giorno presentato dal parlamentare Scutellata del Movimento 5 Stelle, rivedere la geografia dei tribunali. Ancora scontri sulla medicina a Cosenza, continua il derby con Catanzaro, sull'istituzione di un nuovo corso, il sindaco di Catanzaro, Fiorita, si appella Occhiuto, no ai duplicati, Sorrentino, vera opportunità, sarebbe stato meglio investire sulla Magna Grecia. Addio a Geltrude Guarasci, la vedova del primo Presidente della Regione Calabria. Next elettronica, l'incontro con i sindaci, l'impressa salvata dai dipendenti, poi presenti anche i sindacalessi della Fiume Cigiele, a tal proposito, un bollino di qualità a chi rispetta i giornalisti, questa è la proposta del Corecom, quindi una certificazione di qualità per gli organi di informazione che rispettano i contratti nazionali per i giornalisti che troppo spesso restano inapplicati. Drangheta a Roma, inchiesta a Tritone, in 63 al vaglio del giudice per l'udienza preliminare, la requisitore durerà due giorni, iniziata la scelta dei riti, poi tentacoli sull'economia, interdittive per quattro imprese nella capitale, Drangheta al nord, i comuni veronesi, parte civile contro le indrine, l'appello del coordinatore di avviso pubblico. Tropea è bella, non solo d'estate, grazie all'amministrazione comunale il borgo fa il pienone, anche quest'anno le luci d'artista della perla del terreno attraggono i visitatori. Poi c'è un'intervista, valorizzare l'identità territoriale, parla l'ex sindaco Lo Giudice, a margine della presentazione del suo libro, quindi numerosi temi affrontati in governare insieme, questo appunto l'ultimo libro del sindaco Francesco Lo Giudice, presentato all'Università della Calabria, che abbiamo appunto questa notizia che abbiamo letto sulle pagine del Quotidiano del Sud. Poi a Catanzaro, che ne sarà del Museo di Arte Contemporanea, il direttore artistico Rocco Ugielmo farà il punto sulla gestione arrivata alla scadenza. Ancora sul Quotidiano del Sud, delle pagine interne nei vari territori, poi Camera di Commercio, nominati consiglieri, Union Camere, approvato anche il programma pluriennale. C'è un'intervista sulla pagina di La Mezzia del Quotidiano del Sud, Gianni Arena, che è il Presidente del Circolo La Mezzia Lega Ambiente, che lancia l'allarme sul dissesto idrogeologico, territorio violentato, molti pericoli, dalla frana di Calia a costruzioni elevate in luoghi senza piano di edificazione. Ma Gianni Arena ha parlato anche dell'aeroporto e di altre questioni. Secondo Gianni Arena, con i fondi del PNRR, bisogna integrare la stazione di San Teofemio, La Mezzia, la stazione ferroviaria, l'aeroporto, l'aria industriale e il mare. In più, Gianni Arena ricorda che il comune di La Mezzia Terme ad oggi è rimasto fuori dalla SACAL senza consiglio di La Mezzia Terme. Infatti, a maggio scorso la Regione Calabria ha preso le quote del socio privato, ha comprato le quote del socio privato tramite Fincalabria, è diventato azionista di maggioranza pubblica, maggiore socio pubblico, ha nominato un amministratore unico che è Franchini e da maggio ad oggi è rimasto l'amministratore unico, non c'è più il consiglio di amministrazione, nel consiglio di amministrazione c'era anche il rappresentante del comune di La Mezzia Terme che, appunto, dopo la Regione è il socio con più azioni, ma nel consiglio di amministrazione che non c'è più, quindi è chiaro che il comune è rimasto beffato e non è più rappresentato nel management della SACAL, la società di gestione dei tre aeroporti calabresi che, ricordiamo, ha sede a La Mezzia e La Mezzia è anche sede del maggiore aeroporto calabrese. Paura, paura a Curinga, in particolare ad Acconia di Curinga dove c'è stato un incendio in un'abitazione che è originato da una canna fumaria nella cucina di questa abitazione, fortunatamente però non c'è stato, non ci sono stati problemi per le persone che abitano in questa casa. Martin Klein, Federica Carta per salutare il nuovo anno alla Mezzia su Corso Numistrano la notte di San Silvestro, il capodanno appunto su Corso Numistrano con Martin Klein che è un DJ di Radio 105 e la giovane cantante Federica Carta allieva del talent show Amici che saranno i protagonisti dell'anno che verrà promosso dal comune di La Mezzia Terme. Andiamo sempre a La Mezzia, quella fontana simbolo di rinascita realizzata all'indomani dell'evento sismico del 1783 che colpì la Calabria, critiche sulla vernice colorata che ha attirato l'attenzione della fontana di Piazza Mazzini, la prima ubicazione era prevista su Corso Numistrano, oggi questa fontana è in un luogo di degrado ambientale e sociale. A confronti c'è il raduno delle zampogne d'Italia, poi parliamo della start-up Spirulina, è stato ottenuto il brevetto per la microalga utilizzata come efficiente integratore alimentare, c'è l'intervista all'ingegnere Fagat il quale dice è stato un lavoro duro di oltre due anni per ottenere appunto il brevetto. A Crotone fine anno più ombre che luci, questi sono gli umori degli operatori delle principali località turistiche della provincia di Crotone. Andiamo ancora all'interno delle pagine del quotidiano del Sud, leggiamo questa notizia che arriva da Vibbo, si continua a sperperare denaro, quindi le nuove figure affiancheranno le tre esistenze e la minoranza al Consiglio Comunale di Vibbo attacca a testa bassa, sempre a Vibbo, Polizia, spaccio di droga e tentativo di introduzione di un fumogeno allo stadio. Sono state denunciate due persone a Vibbo. Ricordate l'inchiesta Petrol Mafie, leggiamo ora un'altra notizia di questa inchiesta, super associazione transregionale, le motivazioni della sentenza del processo con il rito abbreviato, Petrol Mafie, tre gruppi su scala nazionale che traevano profitto dalla commercializzazione di gasolio. E poi sempre in provincia di Vibbo a Zambrone, marginali e ininfluenti, rilievi messi in risalto dalla minoranza, la replica di Landolina, sindaco di Zambrone. Ancora a Zambrone il piano di sicurezza comunale, l'opposizione elenca le criticità che appunto secondo l'opposizione ci sono nel piano di sicurezza nazionale. Questa era un'altra notizia che abbiamo letto dal quotidiano del Sud. Anche qui incontri d'oltre promosso da Felice Conflenti a Conflenti nella pagina Società e Cultura anche qui a Conflenti il più grande raduno di Zampogne in Italia. Quindi incontri d'oltre si chiama questo appuntamento. Poi Cube Stage i bronzi si fondono col Natale installazione artistica inaugurata a Reggio al Teatro Cilea dopo Alexia il concerto dell'1 di gennaio. Questo era appunto sulle pagine del quotidiano del Sud. Come sempre noi arriviamo poi alla conclusione con lo sport del quotidiano del Sud. Andiamo alle pagine dello sport avviandoci alla conclusione del nostro appuntamento. Andrea Agnelli dicevamo Juventus sicuro di aver operato bene l'ex presidente Andrea Agnelli all'ultimo atto passo indietro per tutelare il club. Il saluto all'Assemblea degli azionisti approvato il bilancio al 30 giugno 2022 il nuovo CDA si insiederà il 18 di gennaio. Mondiali sci femminile gigante la scifrine vince di prepotenza di prepotenza podio per la Bassino. Andiamo alle squadre calabresi partendo dalla serie B ultimo posto in classifica per il Cosenza Cosenza la svolta serve subito l'ultimo posto in classifica impone più che mai di rivedere il modo di fare calcio il calcio mercato e nuove strategie potrebbero raddrizzare la situazione poi Regina un cammino strepitoso nessuno immaginava il secondo posto degli Amaranto dopo il rischio fallimento di quest'estate dal mercato solo elementi che possono irrobustire la rosa per il girone di ritorno Catanzaro 20 partiti al massimo per le Acule un cammino super hanno steccato solo il secondo tempo di Avellino quindi sul Quotinano del Sud viene rivisitata la prima parte di una stagione vissuta da rullo compressore questa in serie C per il Catanzaro in serie C ancora la carica di Golemic contenti del nostro percorso le parole del capitano del Crotone vice capolista del campionato campionato di serie D che ripartirà invece l'8 di gennaio e poi tutto quanto succederà in questa ripartenza ne parleremo nel corso dell'appuntamento con A tutto calcio che appunto su VSDV riprenderà il 9 di gennaio è sempre per i dilettanti un 2022 da incorniciare per Graziano Nocera che è l'allenatore della gioiese primo in classifica in eccellenza i numeri dell'anno solare Davide Giglio è il goleador più prolifico il tecnico della gioiese appunto Nocera alla migliore media punti tre record per la squadra viola che ricordiamo guida il campionato di eccellenza che riprenderà l'8 di gennaio nel campionato di eccellenza la promosport è al secondo posto in classifica con 10 punti di stacco appunto sulla gioiese proprio l'8 di gennaio ci sarà il terzo scontro diretto tra il terzo scontro diretto tra la gioiese e la promosport questa volta la gioiese giocherà in casa ricordiamo che all'andata la gioiese vinse al Rocco Riga poi c'è stata anche la finale di Coppa Italia il 23 dicembre scorso ha vinto 3 a 1 la gioiese l'8 di gennaio si troveranno di volte per la terza volta questa volta è la prima di ritorno in campionato gioiese e promosport e con questo noi siamo arrivati anche oggi alla conclusione del nostro appuntamento con i giornali in tv come sempre sui canali 94 e 98 del digitale terrestre ma vi ricordo che potete seguirci anche sulla nostra pagina facebook stv e anche sulla nostra piattaforma youtube ogni giorno con voi con i giornali in tv ricordo gli appuntamenti alle 14 alle 20 e poi alle 7.30 altra reprida da Pasqualino lettura come sempre tutto grazie per l'ascolto e l'attenzione e con i giornali in tv naturalmente ci rivedremo per le prossime edizioni grazie per la visione